Sulla carta tutto cambia dal 1 gennaio 2024 con la fine del mercato di tutela del gas come stabilito dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ma nella sostanza nulla cambia nel rapporto tra Estra Prometeo e i suoi clienti nel rispetto del principio di vicinanza che lega la società di fornitura di luce e gas a territorio, famiglie e imprese. Non trattiamo i clienti come semplici numeri per fare sviluppo mercato li trattiamo come cittadini, come persone, come famiglie, come imprese e quindi ci teniamo particolarmente, questo è il valore aggiunto della nostra società di accompagnarli in questo percorso e svolgere appunto una funzione a tutela e a sostegno del territorio tutto in un momento così delicato, così complesso. Il cambiamento quindi non dovrà destare alcuna preoccupazione Estra Prometeo si farà carico di garantire un passaggio lineare attraverso specifiche campagne informative già avviate a settembre. La nostra priorità è quella di prenderci cura di questo passaggio affinché avvenga in modo consapevole e informato soprattutto. Potrebbe essere questa occasione quella anche di subire diciamo delle disinformazioni magari da altri operatori più scaltri sul mercato e invece sia che il cliente si trovi in una situazione di vulnerabilità sia che si trovi in una condizione di non vulnerabilità in ogni caso il fornitore al primo gennaio sarà ancora Prometeo. Dal mercato tutelato al mercato libero per i clienti non vulnerabili di gas naturale il superamento della tutela di prezzo è appunto previsto dal primo gennaio 2024 mentre per i clienti di energia elettrica a partire da aprile 2024 diversamente invece i clienti vulnerabili potranno continuare ad essere serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dalla RERA senza dover compiere alcuna azione aggiuntiva. Ma quali sono questi soggetti? Tutte le persone che hanno già compiuto i 76 anni che ha disabilità o che vive in situazioni comunque sia disagiate queste persone sono già censite all'interno del sistema informativo integrato o altrimenti c'è la possibilità da parte del cliente finale se si trova in una di queste situazioni di fare un'autodichiarazione e quindi di entrare di diritto nel servizio di vulnerabilità. Periodo di svolta importante ma anche complesso attenzione dunque alle truffe telematiche e telefoniche. Estra Prometeo non chiamerà i clienti a casa per fargli cambiare contratto fargli cambiare mercato. Questo potrebbe succedere da parte di altri operatori quindi una grande attenzione alle truffe proprio perché soprattutto il mercato dei vulnerabili sono persone, ripeto, come detto prima con più di 76 anni potrebbero essere tratte d'inganno da false informazioni che potrebbero uscire sul mercato. Questo per noi è veramente importante per tutelare il cittadino.